Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany Prima di addentrarmi dentro il tema di oggi volevo farvi qualche premessa Nelle prossime settimane i video saranno molto probabilmente due a settimana di cui vorrei mantenere ovviamente sempre il Feminist Friday perché il venerdì di marzo mi pare anche quasi superfluo dirvi perché marzo si è il mese dedicato alle donne e quindi ci terrei molto a fare dei video proprio riferiti al Feminist Friday e poi forse un altro contenuto a settimana avrò un sacco di lavoro da fare quindi volevo dirvelo giusto perché non scomparirà il canale, anzi assolutamente no però non riuscirò o almeno difficilmente riuscirò a fare più di un video quindi insomma le premesse sono già abbastanza partirei con video di oggi che è un video un po' speciale è la prima volta che sul canale faccio questa cosa un po' random però mi sembrava molto carina quello che ho preparato per voi oggi è un jar game ovvero io ho una jar dalla quale estrarò dei fogliettini contenenti qualche titolo di libro, saga cose che riguardano il young adult e il fantasy come sempre il video riguarderà il re-read, re-write o burn ovvero rileggere, riscrivere o bruciare ovviamente io penso che nessun libro vada bruciato perché bruciare i libri mi ricorda un passato che non vorrei assolutamente rivedere anche se tutte le permesse ci dicono il contrario in realtà più che bruciare magari regalare, donare, vendere perché non fanno proprio per me questo è un gioco che ho visto da diversi canali non so chi sia il creatore comunque se lo scogo ve lo linko giù nell'info box non so neanche se qualcun altro l'ho fatto già su booktube Italia penso proprio di sì chiaramente però insomma volevo fare qualcosa di veloce e leggero visto che i miei video durano sempre 8.000 ore in ogni caso partirei subito ogni volta selezionerò tre fogliettini e uno di questi tre libri lo metterò nella categoria da rileggere uno nella categoria da riscrivere perché secondo me magari qualcosina ne ha un po' bisogno e l'altro invece sarebbe burn e noi diremmo burn però magari ci facciamo qualcos'altro partiamo con il mescolare nella mia jar primo fogliettino poi ho preso il secondo e il terzo allora il primo titolo è Cursed Child il secondo è Wonder Woman Warbringer e il terzo è Simons vs. The Women's Sapiens Agenda ok allora sicuramente nella categoria burn mi spiace dirlo ma ci metto Cursed Child cioè non è vero non mi dispiace neanche perché è un libro terrificante e sicuramente come opera teatrale sarà meravigliosa come libro è totalmente inutile e questo è un po' difficile nel senso che sono due titoli che a me piacciono molto re-read devo dire che in realtà vabbè non so rispondere a questo allora devo dire che ho voglia di rileggere Simon visto che sta per uscire anche il film ma come fai a riscrivere un libro di Leigh Bardugo cioè non puoi scriverlo meglio quindi ok mi spiace questa volta vince Leigh Bardugo con il re-read e Simon con il re-write perché lo riscriverei? c'è qualcosa che cambierei? in realtà no boh vabbè in ogni caso non si può andare a far riscrivere un libro a Leigh Bardugo cioè chi è che lo può scrivere meglio? nessuno quindi vabbè andiamo avanti vedo che questi giochi sono già un fail per me quindi perfetto allora primo bigliettino secondo bigliettino e terzo bigliettino che sì si è aperto tirandolo su allora il primo è Rebel of the Sands di Owen Hamilton poi c'è The Selection e November 9 di Colin Hoover che dovrebbe credo si chiama i 9 novembre in italiano insomma allora wow sicuramente salvo come re-read Rebel of the Sands anche perché lo devo veramente rileggere se voglio leggere il secondo quindi abbiamo già trovato questo ecco tra il re-write e il burn entrambi questi titoli non mi sono piaciuti io sapevo che sarebbe andata all'inizio ciao allora prendiamo una decisione perché bisogna essere un po' pragmatici io penso che tra le due come fai a essere fragmatica November 9 è un titolo che io ho detestato io non sono una fan di Colin Hoover e non ho mai letto nessun altro libro di Colin Hoover non che The Selection sia meglio ma almeno ho finito tutta la serie quindi ipoteticamente The Selection lo riscriverei facendolo scrivere a un'autrice che magari ha un po' di cognizione di causa magari buttarlo un po' più sull'ironico che farebbe un po' ridere e burn mi spiace e mi dispiace dirlo ma il libro che brucerei è November 9 sorry vado avanti nella pesca primo nome secondo bigliettino e terzo bigliettino il primo titolo è The Ross and the Dawn di René Adieh l'altro è Shatter Me di Tyra Murphy e poi c'è Miss Peregrine So in Thor to your children io amo dirlo perché è uno scioglilingua ah quindi abbiamo moglie e marito contro René Adieh vabbè sicuramente reread The Ross and the Dawn che tra i tre è quello che mi è piaciuto di più questa duologia mi piace un sacco quindi la difenderò sempre ah sicuramente burn ci mettiamo Shatter Me perché sapete tutti che Shatter Me per me è una serie nah e in realtà questo è forse tra tutti quelli che ho strato fino adesso la terzina più facile perché Miss Peregrine che per me è invece un libro molto bello l'unica cosa è che riscriverei alcune parti perché non mi hanno fatto impazzire soprattutto il ritmo a un certo punto si affossa tantissimo e a parte il protagonista tutti i personaggi secondari sono veramente poco approfonditi quindi un po' di caratterizzazione in più io gliel'avrei data ecco forse Miss Peregrine è l'altro personaggio che un po' è caratterizzato ma per il resto c'è un grande piattume quindi con tranquillità senza difficoltà vi posso dire che rewrite lo vince Miss Peregrine uno due e tre allora prima migliettina Strange the Dreamer di Laini Taylor poi ci abbiamo Shadow and Bone è già il panico e poi abbiamo Carry On eh e ora sono fregata cioè Pucked direbbero in inglese come faccio allora ok ok cerchiamo di fare una cosa razionale allora Strange the Dreamer è il mio libro preferito del 2017 e io penso che un talento come quello di Laini Taylor sia veramente difficile da trovare da qualsiasi parte Shadow and Bone sapete che è una delle mie trilogie preferite in più la scritta Sua Maestà Liberdugo quindi Carry On è l'unico libro di Rainbow Rowell che io non ho detestato anzi mi è piaciuto molto eeeh quindi ora rimango nella melma per dirla carinamente allora visto che siamo per l'internet verità noi sempre direi che facendo una classifica se dovessi pensiamo a una cosa se io andassi a vivere su un'isola deserta potrei vivere senza carry on quindi the book I burn it's carry on il libro che brucio rimane carry on c'è un motivo se io non le faccio questi giochi perché non sono in grado di giocare ok allora adesso ve la motivo così non mi prenderete per pazza se io penso a come è scritto Strange the Dreamer e se io penso a come è scritto Shadow and Bone mi piange il cuore dirlo perché tutto ciò va contro quello che vi dico da quando ho aperto il canale però probabilmente riscriverei Shadow and Bone lo sto dicendo lo sto registrando su un video nel senso che l'unico difetto che io probabilmente trovo in questa serie è che per qualche punto microscopico sto cercando di darvi delle motivazioni ci sono cose che ad ora risultano un po' datate ma datate è la parola sbagliata probabilmente probabilmente ora c'è una consapevolezza maggiore di tanti altri aspetti ad esempio anche la protagonista renderla un po' meno fastidiosa probabilmente sarebbe un ottimo punto di partenza però poi c'è il Darkling che è il miglior cattivo mai creato negli ultimi anni quindi vabbè prendiamo questa decisione siamo adulti quindi lo dobbiamo fare re-write shadow and bone e invece re-read va strange the dreamer di lady taylor anche perché poi quando uscirà muse of nightmares in autunno forse ne avrò bisogno ora è l'ultima veramente perché questa questa ultima terzina mi ha ucciso quindi prendiamo questo prendiamo questo e prendiamo questo il primo è geekerella uh I'm in the french kiss e paper princess ok burn visto che è una montagna di spazzatura e non c'è altro modo per dirlo potete fingere che non sia così ma è così paper princess lo bruciamo in realtà io non è che vorrei bruciare i libri ma spero che magari queste cose nemmeno escano dalla casa editrice that's it ed è l'unica e ultima volta che sentirete parlare di questo titolo su questo canale spero dopodiché ah well rewrite ok io penso che worth cioè che avrebbe bisogno assolutamente di essere riscritto Anna and the french kiss perché per quanti problemi abbia io vi linko giù nel video il feminist friday che ho dedicato a tutti i problemi di questo libro penso che abbia qualche elemento positivo pochi però li ha nel senso che comunque è affascinante è ambientato a Parigi è un contemporane bla 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 quindi se fosse stato scritto con una consapevolezza maggiore con un pizzico di naivité quindi ignoranza in meno probabilmente sarebbe stato anche un libro carino almeno per i miei gusti ovvio che se lo amate ragazzi come sempre non vi offendete se invece vi siete offesi per Paper Princess mi spiace ma però in quel caso devo dire che sono un po' meno preoccupata del vostro sentirvi colpite per questa mia critica invece se Anna and the French Kiss vi è piaciuto ovviamente io non voglio togliere i sentimenti che avete voi col libro ma io non voglio neanche fare tutte queste premesse che mi annoiano sempre ripeto peace and love spiegatemi perché a voi è piaciuto io lo riscriverei il re-read va direi sicuramente di Kerela che almeno mi ha fatto divertire un sacco ed è un libro super carino molto easy molto veloce da leggere quando avete magari una io ve lo consiglio se avete un po' di slump che non riuscite ad entrare bene dentro qualcosa io di solito se vado in slump come era nel periodo in cui ho letto Geek e Kerela cosa ha fatto mi sono letta un qualcosa di super leggero divertente magari già visto perché questo magari è una classica storia dove c'è del fandom di mezzo c'è Omicron di mezzo insomma però è veramente carino simpatico fa ridere ve lo leggete non ha nulla di malvado sbagliato all'interno quindi bravi anche chi scrive questi libri con un po' d'attenzione quindi l'ultimo libro che rileggerei è Geek e Kerela niente come avrete capito questi giochini non fanno per me perché non ne sono proprio in grado però spero comunque che sia stato qualcosa di divertente da portare sul canale un po' più leggero e spero che questo video non duri 20 minuti io vi ringrazio di aver passato come sempre un po' di tempo insieme a me se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale mettete like commentate insomma quello che dovete fare per mantenere un po' attivo il mio canale giù nell'info box trovate anche tutti i link di affiliazione Amazon se qualche titolo che ho nominato vi interessa vi è interessato insomma qualsiasi cosa noi ci vediamo al prossimo video ciao